Salve a tutti ragazzi, bentornati in compagnia del Guerz, bentornati insieme ad EvoSmart.it Oggi andiamo a vedere più nel dettaglio alcuni accessori che ho scelto, meglio conosco questo sito oramai da qualche mese e ne ho parlato anche su EvoSmart Plus, vi lascerò qua sopra nelle schede il video dedicato perché Diego di Apple Scler mi ha mandato un pacco, mi ha mandato un pacco con al suo interno alcune cover che sono quasi, quasi sono anche troppo buono perché sembrano veramente identiche ad alcune cover di Apple, ci sono alcuni cinturini per Apple Watch ragazzi, io non sto più nella pelle, veramente, sono questi i video che mi piacciono ultimamente riscoprire accessori, riscoprire cover, farvi vedere anche la parte terza degli smartphone e dei vari wearable che vado a provare quindi non mi perdono ulteriori chiacchiere, mi raccomando qua sotto in descrizione trovate tutti i link del caso di Diego perché il sito è completamente italiano e poi c'è una sessione privata solo per utenti premium serve una password per entrare, ve la darà Diego così potete avere accesso a tutto il catalogo a 360 gradi e secondo me vi conviene vedere tutto quello che ha sullo store ho parlato anche troppo, spacchettiamo e vi faccio vedere più nel dettaglio la cura di questi oggetti allora ragazzi, vado subito ad aprire la confezione uh, happy christmas abbiamo già dei piccoli indizi, guardate la cura proprio nel packaging, no? anche qua, tanti auguri di Natale, non è scontata, eh, come cosa confezione con logo, ecco qua il link diretto del sito piccolo indizio natalizio vado subito ad aprire con voi il tutto uh, quante cosine mi ha messo Diego al suo interno vabbè, intanto abbiamo dei piccoli sticker che ci ricordano il Natale buone feste poi abbiamo dei piccoli adesivi oltre a vendere questi accessori è appassionatissimo ragazzi di Apple Diego mi ha detto, Guersi, io sono uno dei tanti rivenditori che trovo ad esempio su Amazon di cinturini compatibili con Apple Watch e altri accessori ma la mia forza è quella di creare un packaging e di avere un packaging che è quasi identico all'originale la cura nel dettaglio e nei particolari soprattutto per il cliente questi ragazzi sono i nuovi cinturini che gli sono arrivati e li vado subito ad aprire guardate proprio la cura come vi dicevo prima della confezione per quanto riguarda i colori ho fatto scegliere direttamente a Diego ma vedete, sono i nuovi cinturini di Apple allora vado a prendere l'Apple Watch monto subito il cinturino perché sono curiosissimo ragazzi di vedere come mi sta e se mi sta, spero di sì sì, eccolo qua che figo ragazzi, veramente che figo guardate tranquillamente al polso questa è in silicone ma non è finita qua perché vedete troviamo anche quelli in corda questo è un pochino grandino al mio polso ma è un regalo quindi non vi preoccupate la persona che metterà questo cinturino è un pochino più grande di me quindi non è un problema però devo dire assolutamente spettacolare proprio i materiali con cui è costruito tra l'altro sono veramente morbidi sono molto morbidi come cinturine non danno assolutamente fastidio vado a montare anche questo che come l'altro dovrebbe essere un pochino più largo rispetto al mio polso ecco qua anche l'altro inserito mi sono fatto mandare anche queste cover sono le cover uguali a quelle di Apple insomma in silicone compatibili con MagSafe e guardate la cura anche di questo packaging addirittura con lo strappo come Apple allora sono per iPhone 12 bar iPhone 12 Pro nonché iPhone 12 Pro Max allora vado ad aprirla è la classica cover trasparente devo dire il dettaglio ragazzi vabbè che sono cover in silicone alla fine non è niente di che non è che Apple si vada a inventare una cover specifica però devo dire che non male veramente non male la cura e la qualità del dettaglio anche dei tasti volume tasto power on poi power off vado subito a prendere iPhone 12 ecco qua smartphone inserito all'interno della cover vi faccio anche vedere il tutto beh ragazzi è alla fine è una cover trasparente per carità compatibile con MagSafe quindi potete tranquillamente attaccare il vostro accessorio e devo dire calza lo vedete anche voi a pennello veramente ben fatta ora voglio vedere quella per il mio Pro Max prendiamo il big padellone e andiamo a mettere la cover beh ragazzi devo dire l'effetto è ottimo ottimo per quanto riguarda proprio come accessorio tasto power on power off che funziona a meraviglia senza problemi tasto delle notifiche che funziona nonché il tasto volume su volume giù senza nessun tipo di problema quindi ragazzi che dire sicuramente se cercavate un accessorio del genere risparmiate moltissimo all'interno del sito altro accessorio che ho trovato in confezione questo a Flavio piacerebbe tantissimo perché è la protezione per il vostro Apple Watch come vedete oltre ad avere un vetro protettivo quindi andare a proteggere il display avete anche la protezione a 360 gradi quindi non solo andate a proteggere il display ma proteggete anche la cassa dell'orologio è disponibile in varie colorazioni quindi magari potete fare un match cinturino come in questo caso e protezione vedete eccolo qua non ho tolto le pellicole protettive perché la voglio regalare quindi la richiuderò comunque vedete questo è l'effetto finale l'inserimento è banale è semplice si parte dalla parte destra è andato a proteggere il vostro smartwatch a 360 gradi senza installare pellicole eccetera fa tutta questa protezione avete display protetto nonché cassa avete visto quindi accessori compatibili con i vostri iPhone 12 iPhone 12 Pro Max non originali ma veramente veramente non dico identici ma siamo quasi alla perfezione seguitemi anche su Instagram MattGuerza86 perché nei prossimi giorni vi pubblicherò delle storie con tutti gli accessori che mi sono arrivati non li ho fatti vedere tutti nei video seguitemi all'interno di Instagram così per rimanere sintonizzati e trovate anche tutte le varie storie di Diego sul suo account ufficiale tutti i link sono qua sotto in descrizione e anche per quest'oggi dal Buon Guerza è tutto e ci vediamo domani per un nuovo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti